Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo dello sciopero di venerdì, uno sciopero generale che sicuramente creerà alcuni disagi alla città come in tutta Italia, come è l'obiettivo appunto dello sciopero per fare emergere quali sono i problemi secondo CGL e Will riguardanti la manovra finanziaria, ma non solo, ne parleremo a breve, ma in questa edizione parleremo anche della rotonda di via Ravenna, sembrerebbero esserci ipotesi per risolvere i problemi traffico in questa arteria molto intasata, soprattutto durante gli orari di punta, in questa edizione però parleremo anche di economia con l'annuario CDS ferrarese, l'annuario socio-economico e anche con i dati dell'Istat che resistrano a un aumento degli occupati nel terzo trimestre, ma dobbiamo aprire questa edizione con la giornata di lutto cittadino a Codigoro venerdì prossimo quando si terrà il funerale di Stefano Garbellini, il 27enne deceduto a seguito di un incidente stradale a Migliaro a inizio dicembre, esecue che si terranno nella chiesa di San Martino a Codigoro alle ore 14.30 per l'intera giornata di venerdì, il sindaco Sabino Alice Zanardi ha dichiarato il lutto cittadino rimandando tutte le iniziative previste sul territorio. E ora cambiamo argomento e parliamo di sanità perché migliorano i dati relativi al Covid in Italia, allora sentiamo i dati nel servizio. Rallenta la risalita dei recovery Covid. In una settimana il numero di pazienti ha subito un incremento lieve pari al 4,6%, decisamente inferiore rispetto al ritmo di crescita registrato nelle scorse settimane, più 15% il 6 dicembre, più 19,5% il 29 novembre. E quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali Sentinella aderenti alla rete Fiaso del 13 dicembre. Nella settimana monitorata ad aumentare sono solo i recovery nei reparti Covid ordinari, più 5,2%, mentre nelle terapie intensive si assiste a una riduzione del numero di pazienti, meno 7,9%. Resta stabile, prosegue la rilevazione della Fiaso, il numero dei pazienti minori di 18 anni ricoverati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete Sentinella Fiaso. Nei reparti ospedalieri il 64% dei ricoverati con infezione rientra nella categoria con Covid, ovvero pazienti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari. Di contro solo il 36% è ricoverato per Covid perché ha sviluppato la malattia. Economia aumenta l'occupazione in Italia nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, ma cala il potere d'acquisto. Sentiamo tutto nel servizio. Gli occupati in Italia nel terzo trimestre 2022 sono aumentati di 247 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2021, lo rende noto l'Istat. Diminuisce sul trimestre precedente il numero di occupati, meno 52 mila, pari al meno 2,6%. Rispetto al terzo trimestre 2021 i disoccupati sono calati di 284 mila unità. Aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro, convinti di non riuscire a trovarlo. Lo certifica l'Istat, secondo il quale nel terzo trimestre gli scoraggiati, come riporta un comunicato, sono 1.107.000, in aumento dell'8,4% sullo stesso periodo del 2021, più 86.000 unità. Questa categoria aumenta tra gli uomini, più 11,6%, più che tra le donne, più 6,2%. Le persone in cerca di occupazione in Italia scendono nel terzo trimestre sotto i 2 milioni a 1.981.000 per la prima volta dal 2011. E quanto emerge dalle tabelle Istat sul mercato del lavoro, con dati destagionalizzati, secondo le quali il tasso di occupazione nel terzo trimestre è sceso al 7,9%, meno 0,2 punti sul trimestre precedente, meno 1,1 punti sull'anno, il valore minimo dal 2009. Il tasso di occupazione è stabile rispetto al trimestre precedente al 60,2% sui livelli più alti dal 2004, inizio delle serie storiche. Rispetto al terzo trimestre 2021 il tasso di occupazione è cresciuto di 1,1 punti. Le retribuzioni lordi di fatto per lavoratore dipendente sono aumentate nel terzo trimestre 2022 dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'orilevalista sta sottolineando che l'aumento rispetto al trimestre precedente è dello 0,1%. Le retribuzioni lordi e contrattuali di cassa per il totale economia sono cresciute su base tendenziale dello 0,9%. Il dato è molto inferiore a quello dell'aumento dei prezzi. Sciopero generale venerdì in tutta Italia, anche a Ferrara per l'intera giornata lavorativa, in dirlo è CGL e UIL che contestano la recente manovra finanziaria, ma non solo possibili disagi, quindi venerdì per i servizi in città come in altri contesti. A Ferrara i due sindacati hanno organizzato un presidio davanti all'ingresso 2 dell'ospedale di Cona dalle ore 9 alle 12 per far conoscere le motivazioni dello sciopero che sentiremo a brevissimo, motivazioni che avrebbero appunto spinto le sigle, le due sigle sindacali a incrociare le braccia per venerdì 16 dicembre. Ma sentiamo le motivazioni. Sono tanti i temi che verranno toccati, sono tante le motivazioni che la CGL e la UIL hanno portato a fare una scelta così importante come la dichiarazione di sciopero sulla legge di bilancio e sulla legge finanziaria del 2023. Tra queste crediamo in primis che sia una manovra regressiva, che non affrontere i problemi reali del Paese a partire dall'emergenza salariale, dalla necessità di tutelare retribuzioni e pensioni e di recuperare il potere d'acquisto fortemente attaccato dalla impennata inflazionistica e dal contesto più complessivo dell'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti. Contestiamo tutta una serie di manovre a partire dalla scelta di reintrodurre i voucher nel mercato del lavoro, scelta che consideriamo non condivisibile. Non abbiamo sentito battere un colpo né sulle politiche industriali locali né tantomeno, a parte i due comuni che sono quello di Ostellato e di Cento, abbiamo chiesto a tutti i comuni di incontrarci per fare un fondo che aiutasse le famiglie in difficoltà dal carrobollette, addirittura con il comune di Ferrara non c'è nessun tavolo, non ci si parla, è anche vero che c'è un consiglio comunale che non si riunisce, che sono avvicendati in altre faccende, sono più attenti a farsi i selfie con personaggi famosi che a guardare alle reali necessità delle persone in estrema difficoltà. Crediamo che sia assolutamente criticabile il fatto di aver deciso di cancellare le rivalutazioni delle pensioni, tra le altre cose crediamo che non siano state destinate le risorse necessarie dopo due anni e mezzo di pandemia per sostenere il sistema pubblico di servizi, a partire dal sistema sanitario per arrivare all'istruzione ai trasporti. Nella manovra finanziaria non c'è traccia di investimenti in sanità e la nostra sanità già colpita dalla pandemia e già colpita dai rincari energetici rischia di non essere più in grado di dare i servizi ai cittadini, d'altronde le persone a Ferrara lo sanno, conoscono quante ore devono stare al pronto soccorso, conoscono quanto tempo bisogna aspettare per fare una visita specialistica e quindi noi pensiamo che i diritti universali debbano essere garantiti a tutti a partire dalla sanità e che non sia possibile che un cittadino se ha una carta di credito capiente si possa curare e se invece un povero non si possa curare. Ferrara Diseguale è il titolo dell'annuario socio-economico ferrarese 2022 che CDS presenterà sabato mattina 17 dicembre dalle 9.30 alle 13 nella sala convegni di CNA, sempre un momento di approfondimento e riflessione per Ferrara come è emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione al circolo dei negozianti, ecco i temi anticipati. Il titolo è Ferrara Diseguale, abbiamo voluto dargli questo titolo per fare emergere quelle che sono le peculiarità di questo territorio che ha al suo interno delle grosse differenze a seconda delle aree che noi prendiamo a riferimento e ha anche delle differenze nei confronti delle altre province della stessa regione Emilia-Romagna, differenze, io parlo sempre di temi economico e sociali. I temi quindi sono questi, cosa c'è a Ferrara dal punto di vista economico, cosa c'è a Ferrara dal punto di vista demografico, cosa c'è a Ferrara su alcuni settori portanti di questo territorio, in particolare parliamo dell'agricoltura e del turismo abbiamo parlato. Accanto a queste ci sono tutti i temi di carattere ambientale che riguardano sia il territorio sia l'acqua per così dire, quindi abbiamo approfondito molto le questioni relative al Consorzio di Bonifica, le questioni relative al Po, il Parco del Delta, non a caso anche sabato avremo due interventi da questo punto di vista, uno di Alessandro Bratti e l'altro della direttrice del Parco regionale del Delta. Poi abbiamo prontato i temi della disuguaglianza, le disuguaglianze che ci sono a Ferrara, abbiamo valutato il pezzo dell'energia però da ambiti un po' particolari, quello che potrebbe essere una produzione di bioetanolo da agroindustria nel territorio ferrarese, oppure il problema che sta emergendo in molte zone, in particolare mi richiamo alla zona di Formignana e della zona di Villanova, di Denore, eccetera, relativa alle centrali biogas. Un pezzo molto importante l'abbiamo dedicato al terzo settore, una parte con molti interventi. Sabato mattina noi abbiamo interventi di Chiara Bertolasi che è la portavoce del terzo settore, di Patrizia Di Mella che è riferente del CDA di Borgovado. Ultimo degli interventi Giuseppe Ferrara, anche lui componente del nostro direttivo, lui lavora al petrolchimico, al centro Natta e porterà, rappresenterà la proposta che da due anni il CDS ha maturato e che sta portando avanti relativa al riciclo delle plastiche. Poi ci sarà Patrizio Bianchi e la seconda parte invece della mattinata è dedicata ai nostri 50 anni. Poi ci sarà la proiezione del documentario Appunti e Visioni per una città e la sua cattedrale di Don Massimo Manservigi. Mara Guerra poi leggerà la poesia di Bruno Zanoni e poesia dialettale una zirudela al CDS Adfrara con più 50 anni, io non lo so dire in dialetto. In apertura, e la chiudo così, la proiezione di Come l'acqua, un filmato che ci ha concesso CNA impresa donna Jessica Morelli sulle donne iraniane che raccontano le donne iraniane. Assemblea annuale di CNA pensionati Ferrara, giovedì 15 dicembre, il titolo Vita da pensionati tra caro vita e futuro, bonus welfare, reti di solidarietà o fai da te, questo è il titolo durante l'assemblea, quindi si affronteranno argomenti attuali come difficoltà di pratiche e burocrazie per accedere ai servizi di sanità pubblica, ma anche il caro bollette, le difficoltà ad affrontare i continui aumenti a cui anche e non solo i pensionati vanno incontro, questo che sarà aperto e coordinato da Daglia Vighinati, giornalista e responsabile della redazione di Telestense. Cambiamo argomento adesso da tempo, la nuova rotonda in via Ravenna è al centro delle polemiche da parte di alcuni residenti del quartiere San Giorgio che hanno firmato una petizione presentata all'amministrazione dall'incontro con il sindaco mercoledì mattina, sono emerse alcune possibili soluzioni, sentiamo quali. Allargare la strada è poi una nuova bretella per alleggerire l'arteria, queste le soluzioni per alleviare il livello del traffico che sta caratterizzando da mesi, la nuova rotonda in via Ravenna, sorta davanti al supermercato inaugurato da poco, idee emerse durante l'incontro il municipio a Ferrara tra il sindaco Alan Fabri e il gruppo di residenti del quartiere che con questa rotonda sostengono a visto peggiorare lo stato della viabilità su una strada sempre molto trafficata. Le soluzioni prospettate dal primo cittadino prevedono l'estensione della carreggiata e l'allargamento della rotonda non appena terminate, le bonifiche in corso nell'area adiacente, ovvero dove una volta sorgeva un distributore di carburanti, prospettata anche la progettazione di una nuova bretella che conduce direttamente verso l'area est della città, oltrepassando così il traffico cittadino. Il prossimo appuntamento su questo argomento è in programma tra le parti ed è previsto con l'inizio dell'anno. Il ferrarese Patrizio Bianchi, economista di lungo corso ed ex assessore regionale ed ex ministro dell'istruzione nel governo Draghi, ha ricevuto una laurea ad onore in Economie e Scienze Politiche a Tirana, all'Università Cattolica, nostra signora del Buon Consiglio. In Albania riconoscimento consegnato anche a Romano Prodi, due volte Premier ed ex Presidente della Commissione dell'Unione Europea, così Bianchi e Prodi, amici di vecchia data, si sono incontrati in questo evento che si è tenuto negli scorsi giorni. E ora cambiamo totalmente l'argomento, parliamo di musica, nuovo appuntamento con la grande musica del gruppo dei Dieci e la sua rassegna tutte le direzioni 2022. Venerdì 16 dicembre, allo spirito di Vigarano Mainarda, sarà in concerto il pianista, cantante, autore Franco Fasano. Sentiamo che appuntamento sarà con Alessandro Mistri. Questa è l'introduzione di Colpevole, una delle canzoni che canterò il 16, proprio allo spirito, accompagnato da un grandissimo musicista che è Massimo Tagliata. molto noto a voi del gruppo dei Dieci. Infatti è la seconda volta che venivano lì. Scusatemi se mi inclino, ma non è facile fare vedere che qui si suonarà al vivo come succederà quella sera. Mi raccomando, il 16 di dicembre, quindi tra qualche giorno, allo spirito di un paesino vicino Ferrara, che adesso vi dico anche qual è, perché io... Vigarano Mainarda. Vigarano Mainarda. Grazie Alessandro Mistri, anzi do a te la parola per tutti i dettagli. Ok? Ci vediamo fra qualche giorno. Un saluto da Franco Fasano. Allora, Alessandro Mistri, direttore artistico gruppo dei Dieci, che cosa aggiungere di più per questa serata del 16 di dicembre? Fortunatamente, ha detto già quasi tutto lui, Franco Fasano. È un piacere ritrovarlo, è un amico e soprattutto è un grandissimo autore di canzoni, ottimo esecutore, già cantante. Lui si è presentato quattro volte a Sarremo a titolo personale e poi ha vinto con le canzoni prestate, diciamo così, a Fausto Leali. Ha vinto con Anna Ox, mi pare, la prima volta con Ti lascerò, poi dopo c'è stato Io amo, tante altre canzoni magnifiche che ha scritto Franco. E ascoltare Franco Fasano è un'emozione unica, dall'inizio alla fine, sia per come racconta, sia per come canta, sia per come esegue. E poi, come ha detto lui stesso, sarà accompagnato anche da Max Tagliata, fisarmonicista eccezionale, anche lui grande frequentatore delle nostre serate, naturalmente il suo invito, che è stato fra l'altro, lui gestista, suona veramente a tutto tondo, la sua versatilità è dimostrata anche poi che sembra a fianco di Viaggio Antonacci, anche nella parte pop, diciamo, della sua avventura musicale. E poi, fra l'altro, sarà un'occasione per presentare il libro che ha scritto proprio Franco, che faccio vedere, che si chiama, guarda caso, Io amo, e dove dice, sottotitolo, dal muretto di Alassio, che molti degli spettatori penso conosceranno, io senz'altro, al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro, le sigle per i cartoni animati e non solo. In effetti sono tante le canzoni che lui ha scritto, anche con lo Zecchino continua, altra parte penso che lo Zecchino d'Oro sia anche una miniera, anche per quelli che scrivono, non soltanto come nome della manifestazione. Comunque invito tutti, non ribadisco, al 16 dicembre a Vigrano Mainarda, paesino come dice lui, ma per noi un grande paese perché ci ha accolto veramente a braccia aperte, allo Spirito, con Franco Fasano e Max Tagliata e il gruppo E10. Rimaniamo in provincia di Ferrara, prendo nel via le iniziative di Fiscaglia per Teleton, sentiamo allora che cosa accadrà venerdì 16 dicembre. Tutto pronto anche quest'anno a Fiscaglia per le iniziative a supporto di Teleton. Il progetto è stato presentato in questi giorni in una conferenza alla presenza del coordinatore provinciale Claudio Benvenuti, degli assessori Francesco Sovrani e Monica Chiarini, del presidente del volano Massimo Miozzi, assieme a Mario Pozzati, referente di Teleton Fiscaglia e dell'omonimo progetto. Sono state anticipate tutte le attività che si terranno fino al 21 dicembre nelle località del comune. Venerdì 16 si inizierà già alle 10 del mattino a Migliaro con Babbo Natale alla Casa di Riposo Don Tampieri. In serata alle 21.15 al Teatro Vittoria di Massa Fiscaglia le sonorità del Ferrara Gospel Choir. Sabato 17 alle 9.30 il di Babbo Natale nelle piazze di Fiscaglia, mentre in serata alle 21.15 a Migliarino le nuove leve presentano la serata 2x5. Domenica 18 alle 12.15 a pranzo con Teleton presso il volano di Migliarino, mentre mercoledì 21 vi sarà un appuntamento dedicato allo sport con una maratona padel al centro sportivo di Massa Fiscaglia a cui seguirà alle 18.30 il match calcistico tra Massese e Portuense ed infine la cena con Teleton presso l'Hauser di Massa Fiscaglia. Tante iniziative tutte a supporto della Fondazione Teleton in concomitanza con la maratona televisiva in corso questa settimana. E con questo servizio è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.